Ciao amici oggi vi faccio vedere come si fanno i ghiaccioli alle pesche e gli oagut Guardatevi l'aspettacolo! E' buono bimbi! Adesso iniziamo! Prima di tutto usciate e tagliate le pesche Poi ci servirà anche il giobut, la vaniglia e il miele Pronti via! Prima di tutto uscire, il miele e con un po' di yogurt Amici facili inizio, si mette tutto da gioco e si folla Facciamo pesche! Vedete che mi piace tanto il cucchiaio! Un po' di yogurt e la bronca di qua Adesso gioco! E allora lo faccio! Infine il miele E poi assaggiate la mamma! Adesso fruttate la mamma! Adesso fruttate la mamma! E adesso li mettete dentro gli stampini dei ghiaccioli Un po' a un po' Deve diventare molto freddo prima di mangiarli Perché se no non sono buoni Perché se no non sono buoni Adesso fruttate la mamma! E' un po' a un po' a un po' a un po' Fra di essa Sì ma buoni E gonciolanti Amici potete farlo anche voi se mi man root la muta assaggiateli sempre per vedere se sono buoni ciao ci vediamo alla prossima